Sono stati finalmente affidati i lavori per il definitivo ripristino del muro di via San Vito, situato al di sotto del circolo del tennis ad Agrigento a Danne Notizia, e l'assessore ai lavori pubblici Gerlando Principato, che dichiara che questo intervento rappresenta un passo fondamentale verso la messa in sicurezza di un'area strategica della nostra città, che da anni necessitava di una soluzione strutturale e duratura. Dal giugno del 2021, quando via San Vito fu chiusa in via precauzionale, sono stati eseguiti diversi interventi, iniziati con una messa in sicurezza temporanea. Il muro fu puntellato per consentire una riapertura parziale al traffico e prevenire il rischio di caduta di calcinacci. Inoltre è stato rivisto il sistema di smaltimento delle acque bianche nell'area sovrastante, in particolare nei pressi dei campetti del circolo del tennis, oggetto di un intervento già concluso di rigenerazione urbana, eliminato le infiltrazioni dell'acqua, causa principale del deterioramento della struttura muraria. Fin dall'inizio, continua Miciche, abbiamo guardato oltre gli interventi provvisori puntando a una messa in sicurezza definitiva del muro di via San Vito, sottolineando l'importanza di garantire la sicurezza di una delle artelle principali della nostra città. L'amministrazione comunale non si è limitata a un progetto puramente strutturale, ma ha incluso il miglioramento estetico dell'area, con la rimozione degli elementi obsoleti, come pannelli pubblicitari, impianti dismesse e vegetazione infestante. Il progetto prevede la pulizia e la bonifica della superficie muraria, la riparazione dei congi di tuffo e rosi, e il priprissino della muratura utilizzando materiali compatibili con la struttura originale in calcarenite. Il parapetto e il cordolo in calcestruzzo verranno smantellati e ricostruiti per garantire la stabilità e la sicurezza nel lungo termine. Interventi analoghi verranno eseguiti sul tratto di muro lungo la scala laterale che collega la via De Gaspari con la via San Vito. L'intervento complessivo, conclude Principato, avrà un costo di 150.000 euro interamente finanziato con i fondi comunali. A questa cifra si aggiungeranno i fondi già spesi nei precedenti interventi finanziati con fondi ministeriali, portando il totale degli investimenti nell'area a circa 300.000 euro, somma già prevista nel 2021. All'epoca in pochi credevano che saremmo arrivati a questo risultato, ma questo dimostra il nostro impegno nel completare il lavoro e restituire alla città aria in totale sicurezza. L'amministrazione, conclude Principato, conclida nella collaborazione dei cittadini durante le modifiche temporanee alla viabilità laddove necessarie, garantendo il risultato finale sarà all'altezza delle aspettative.